Ragazzuoli, torniamo a parlare di Atletico Juventus, ormai penso che l'abbiate capito come per Inter, Napoli, faccio la reaction a caldo, ma poi mi piace ritornare sull'argomento a freddo aggiungendoci le vostre considerazioni, perché di quelle che poi andiamo ad approfondire, andiamo ad approfondirle, perché a me piace leggervi, scrutarvi e quindi aprire questo confronto e lo facciamo diventare anche acceso volendo, sempre sportivamente parlando. Penso che ormai questo si sia capito. Allora, non ci siamo ritrovati molto d'accordo stavolta, non ci siamo molto ritrovati d'accordo perché per voi l'Avi Ventus meritava la vittoria, per me il pareggio e sono qui a confermarlo. Attenzione, piccola premessa e ce la mettiamo, dire che l'Avi Ventus merita il pareggio e che abbia ottenuto il pareggio non sminuisce quanto abbia fatto in campo, perché l'ho già detto, l'Avi Ventus ha dimostrato tanto, ha dimostrato tantissimo nella partita di ieri, ha dimostrato di che pasta è fatta e questo che sia ben chiaro, che sia ben chiaro, perché comunque portare a casa un pareggio al banda metropolitana è roba, è roba, che stavo dicendo? È roba pazzesca, è tanta roba, che sia ben chiaro, perché adesso sembra il pareggio, il pareggio è importantissimo, è importantissimo. E' chiaro che poi sul 2-0, doppio vandaggio, ti fai pareggiare, la vivi diversamente. Ma è tanta roba, è tanta roba e questo non glielo toglie nessuno alla Juventus e ai tifosi juventini. Però, però, quelli che mi vengono a dire, no, meritavamo la vittoria e meritavamo la vittoria e quindi, no, abbiamo dominato a tratti. Io questo dominio della Juventus non l'ho visto e se la Juventus veramente domina al banda metropolitano, dimostra che è la candidata numero uno a vincere la Champions, perché in questo stadio non domina mai nessuno. Quindi se riesce veramente in questa impressa significa che è la candidata numero uno e poi non dovete vederci come dei gufi. No, perché se dominate al banda metropolitano siete la candidata numero uno, perché questo è uno stadio difficile dove se vinci fai anche la storia. Se ieri la Juventus vinceva, faceva anche la storia, perché questo è uno stadio in cui non vince nessuno, non vince nessuno. Questo per ancora una volta farvi capire l'entità, l'entità del pareggio di quanto di buono abbia fatto la Juventus, che non sto qui a sminuirla e lo ripeto e lo ribadisco ancora una volta. Perché poi da un lato passo per l'eccaculo, dall'altro passo per quello che comunque no, non capisce niente. Cioè ieri sono riuscito a non mettere d'accordo nessuno e questa cosa mi esalta perché non è neanche semplice. Solitamente uno lo metti d'accordo e uno vai contro. No, invece stavolta sono riuscito a non mettere d'accordo nessuno ed è una cosa strana. Però scherzi a parte. Allora, vi do il mio pensiero, cosa mi porta a dire che il pari è meritato. E ovviamente voi ditemi come la pensate voi, datemi le vostre dimotivazioni perché è bello, è bello come già sapete. Io dico la mia, voi dite la vostra, ci sta alla grande, ma lo scrivete a posto. Quindi a posto, a posto, ok. Allora, mi porta a dire che il pari è giusto perché comunque al di là dei due gol subiti dalla Juventus nel finale, poi sempre da calcio da fermo, cioè la Juventus nei calci piazzati, mi sembra di averlo già detto, ha sofferto dall'inizio alla fine, non solo nei due gol subiti, anche nel primo tempo, i difensori della Juventus da calcio piazzato non hanno mai vista la palla. Scimenez ha avuto due occasioni nel primo tempo, ne ha avuta una clamorosa di testa solo a impattare, clamorosa, e se fa gol lì va in vantaggio ed è un gol che vale come un altro. Perché poi qualcuno mi ha scritto, questa è bellissima, cioè questa è bellissima dell'emplema di tu. No, ma che stai dicendo? La Juventus ha fatto due gol su azioni, quelli hanno fatto due gol da calcio piazzato. Perché i gol da calcio piazzato valgono di meno? Cioè mi state dicendo che segnare da calcio piazzato vale di meno? Mi sembra una bagianata grandissima, mi sembra, perché tanto vale un gol su azioni e tanto ne vale uno da calcio da fermo. Cioè ci sono squadre costruite, brave, appunto nei calci piazzati che fanno tanti gol lì, che sono bravi lì, che hanno centimetri. E si è confrontato appunto a questo, una squadra forte sui calci piazzati, l'Atletico, una squadra al momento molto, ma molto debole sui calci piazzati, la Juventus. E lì, secondo me, ha fatto la differenza all'Atletico, come durante la gara, nell'azione, nella partita ha fatto la differenza alla Juve, con tante triangolazioni, con delle belle giocate che hanno portato anche il gol. L'ho detto e lo ribadisco, il primo gol della Juventus è poesia, il primo gol della Juventus è poesia, è bellissimo, è fantastico, l'ho già detto. 33, 33, 33, 33, hanno fatto una cosa meravigliosa, Bonucci, Higuain, quadrato. Bellissimo, 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 ma anche bello il gol fatto, il primo gol fatto dall'Atletico. Calcio piazzato, battuta perfetta, palla su Jimenez che la mette in mezzo e va in bucare Savic. Anche lì c'è fisicità, anche lì c'è tanta roba, c'è tanta roba anche lì. Non è da sminuire secondo me, vale un gol come un altro. Ecco perché non capisco quelli che dicono, no ma quelli hanno segnato due gol da fermo, non è la stessa cosa. Come no? Fa parte del calcio. Le palle inattive fanno parte del gioco del calcio e quindi bisogna essere pronti e preparati. Quando la Juventus sarà pronta e preparata e non subisce due gol da calcio da fermo, non solo meriterà la vittoria, la anche otterrà la vittoria. Non solo la meriterà, la anche otterrà, che è una cosa ben diversa, ben diversa. Questa è come la vedo io. E chiudo ancora una volta dicendo che la Juventus ha dimostrato tanto, ha dimostrato tanto. Soprattutto ha dimostrato a quelli che subito dopo la partita della Fiorentina hanno avuto il coraggio di dire Sarri out, ma cosa deve fare Sarri? Sarri ti ha dato la dimostrazione che andava a vincere la banda metropolitana, eh? Ti ha dato la dimostrazione che è andato lì lì per vincere, lì lì per vincere, che non è vincere, ma è andato lì lì per vincere, eh? Lì lì. Sarri. Quindi calma, calma a tutti quelli che l'hanno attaccato dall'inizio, che non hanno mai sposato il suo progetto. Calma, 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 predichiamo calma, predichiamo calma. E questa è la realtà. E va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. A questo punto, in modo sportivo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, raccate, iscrivetevi al canale. Io vi lascio con un grande abbraccio, con l'abbraccio, ti meschio. Io vi lascio con un grande abbraccio.